I primi mesi di questa avventura sulla panchina delle Brombi sono stati molto intensi, partendo dai tre infortuni gravi di quest'estate che pensavamo di aver assorbito, a essere sinceri, e infatti i risultati cominciavano ad arrivare. Peccato che settembre sia stato il mese peggiore da questo punto di vista. Sconfitte non soltanto in Europa League contro avversari di livello, come Sparta Praga prima e Lione poi, che ci portano oggi ad essere ultimi in un girone sicuramente complesso essendo i Lebrombi, ma non impossibile. Però avremo poi la doppia sfida contro i Rangers e magari proviamo un po' a redimerci. Ma sconfitte pesanti anche in campionato, scontri diretti, come quello contro l'Alborg per esempio, oppure gare che sulla carta avremmo dovuto vincere e basta, come quella contro il Silkeborg, persa clamorosamente in casa a inizio episodio. L'unico successo, l'unico sorriso, quello contro il Sonderiske, anche se affatica, gol di Schielderup al 91esimo che ci ha permesso di muovere un po' la classifica dello scorso episodio e di trovarci qui. A 15 punti dopo 10 partite, al quinto posto e a pari merito con il Randers, che sarà la nostra prima avversaria di questo nuovo mese, ottobre. E come vedete sarà un mese molto intenso, perché dopo il Randers c'è la pausa per le nazionali e noi siamo sulla panchina della Danimarca, avendo accettato proprio l'offerta della nazionale danese nello scorso episodio, sarà interessante rimetterci in gioco, sarà divertente fare poi il mondiale, più che queste amichevoli. Poi inizia il girone di ritorno della Super League, e quindi Vaile, derby contro il Copenhagen e Viborg, che ci ha fermato, è una neopromossa ma ci ha fermato all'andata, era la prima partita che abbiamo giocato in casa al Bromby Stadion. In più il Norgelland in Coppa, ed è un dentro o fuori, e i Rangers, e anche lì è praticamente un dentro o fuori, perché poi è vero che io sulla carta credo che siamo più scarsi di tutti, ve lo dicevo nello scorso episodio, ed è altrettanto vero che forse l'unica con cui potevamo giocarcela era lo Spartapraga. Però i Rangers li affrontiamo alla terza e alla quarta, e quando affronti queste due gare molto ravvicinate, può succedere comunque di tutto, quindi noi non dobbiamo perdere la speranza. Poi questo sarà il mese di novembre che vivremo successivamente. Pronti a partire con questo nuovo episodio, sperando di prendere qualche sveglia in meno dell'ultima volta. Dai e Bromby! 5.788 giorni dopo, il Bromby è sul tetto di Danimarca! E si parte dal riscaldamento di Oliver Bungard, che è una delle sorprese positive, fortunatamente, del Bromby, che ha avuto anche qualche risposta negativa in questa prima parte della stagione. Bisogna tirarle delle somme, effettivamente, perché siamo all'undicesima giornata di campionato, praticamente alla fine della parte di andata della regular season, e siamo quinti. Quindi partendo da detentori della Super League, non è sicuramente un ottimo risultato. Non era semplice per tanti motivi riconfermarci, a partire dal fatto che è un nuovo campionato per noi, e quindi una missione quasi impossibile, quella di vincere al massimo della difficoltà il primo anno. E poi c'è il discorso motivazioni, indubbiamente, anche molto realistico. Il Bromby nella realtà sta affaticando, solo nella seconda parte della stagione sta tornando ai suoi livelli, ma sta affaticando. Comunque Bungard in tutto questo è anche l'ex, il fratello infatti è ancora lì in panchina nei runners, che oggi vogliono metterci in difficoltà e partono con questa formazione. Mentre noi rispondiamo con il consueto 4-2-3-1 e con il consueto 11, purtroppo, aggiungerei perché ci sono ancora quei tre ritorni che tardano e ci servono più che mai, mentre leggete la formazione vi ricordo di supportare il canale e questo video. Quindi lasciate un like per supportare la serie, iscrivetevi al canale se siete nuovi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti, sul dialogo tra Mirante e i suoi compagni. Seguitemi pure su Instagram, così rimanete più in contatto con me, anche perché sarà una settimana e un periodo in particolar modo intenso per l'uscita di molti contenuti qui su YouTube. Ma partiamo con questo episodio, partiamo con Randers contro Bromby, che comincia ora. Maville si butta dentro un compagno che non riceve il pallone, parte un po' a fatica, almeno questa è la sensazione. Il runners che però va subito verticale con Camara, uno contro uno con Mirante, che dice di no. Ci stavano bruciando subito, eh. Ho detto sono partiti un po' in difficoltà perché effettivamente il Bromby li ha messi sotto, però poi primo contropiede e noi subito a far falle. Felix dentro con un buon pallone per Edlund, subito da Schielderup che non riesce a fare 1-0. Vito dentro per Camaradi, prima il suggerimento, palo interno, palo interno sulla conclusione di Lorenborg. Edlund parte Bruce a destra, buon pallone, sul secondo palo soltanto Schielderup lo vede Bruce che mette dentro il pallone per lui. 0-1, vantaggio del Bromby ancora con i due Andreas. Bruce per Schielderup e vantaggio al venticinquesimo. Disturbato, poi il suggerimento indietro e ancora possesso per il Randers. Vito da Camarà, si gira, tocco dentro, splendido, 1-1. Che palla di Camarà, senza guardare e nemmeno io avevo visto quel giocatore. Evidentemente nemmeno Bungard, parità a 10 dalla pausa. Bella partita e pareggio giusto. Da lì rientrerà sul Mancino, poi tocco dietro. Ancora Keinde dentro l'area, lascia lì. Poi arriva l'attraversione per Ankersen che è solo, mette giù colpetto, guarda la porta. Mirante in due tempi. Da Schielderup dovrebbe ripartire Felix, non lo fa, quindi Schielderup va. Mabil solo, servito, buon pallone di Schielderup per aver di ritorno. Schielderup murato, ancora Schielderup. Anticipato dai pugni del portiere. Ci sarebbe sempre Mabil a sinistra, premiato Greve che porta avanti il pallone. Parte Mabil, Greve guarda tutti, non serve nessuno, sempre Greve al limite. Finta, è andato, Greve fino in fondo. Greve! Greve! Per il 2-1 del Bromby. Un gol che si è inventato. Il numero 8 che ci riporta in vantaggio. Mamma mia! Che giocata! Sembrava aver perso l'attimo e poi sposta il pallone al difensore. Capisce che può andare in velocità e la mette alle spalle di Kalgren. 1-2. È un gol pesantissimo, il suo primo in questa stagione. Keinde sposta il pallone, Bungard deve intervenire. Invece no, c'è Camarà ancora. Keinde, mirante! Ragazzi però Bungard, io l'ho dato nel pre-partita ma oggi imbarazzante. Imbarazzante! Sembra ancora un giocatore dei Randers, sta soffrendo questa partita evidentemente. Occhio a Tibling. Il corner verso Camarà. Mirante la tiene lì. Facciamolo passare questo minuto Antonio. Facciamo gli antispurtivi, i furbi. E poi rinviamo lungo. E finisce qui. Vittoria pesante del Brondi. Ancora in trasferta dopo quella proprio nel finale come oggi contro il Sonderische di ormai un paio di settimane fa. Torniamo a vincere dopo due sconfitte consecutive tra il campionato di Europa League contro Alborg e Lione. Torniamo a vincere e apriamo bene ottobre. Cancelliamolo settembre, lasciamolo lì. È un mese di difficoltà che però ci deve far crescere. Se non avessimo vinto questa partita, vi devo dire la verità, mi sarei preoccupato un po' di più perché non abbiamo giocato troppo bene. Gli errori sono più o meno gli stessi di quelli delle scorse partite. Però abbiamo vinto. E spesso fa tutta la differenza del mondo nel calcio. E a proposito di nazionale, datemi consigli anche qui sotto nei commenti su convocazioni che voi fareste se foste il CT della Danimarca. Per il momento io come modulo di partenza ho messo questo qui e come 11 di partenza ho messo questo qui. Quindi Schmeichel tra i pali e poi 4-4-2 praticamente con Kier, Kristiansen, Mele e Oyer. Gran giocatore Oyer. Non tutti lo conoscono ma talento incredibile, piede mancino clamoroso, Zlatan Docet. Non ho parole, non ho parole per questo sinistra. Guarda come arriva in velocità, la mette fortissima, il pallone non si alza da terra, perfetto per l'inserimento. Gol bellissimo. Deleni e Hoiberg a centrocampo con Damsgaard e Zinkernagel a formare insomma quelle che sono le ali. E poi Dolberg con Polsen davanti. Avrei fatto anche 4-2-3-1 ma mi sono dimenticato di convocare un trequartista. E' andata così. L'unico è Christian Eriksen, però fatemi sapere cosa fareste con Eriksen. Lo facciamo giocare? Non lo facciamo giocare? Giusto per capire. Lo facciamo giocare dopo per realismo? Quindi dal 2022 quando torna in campo? Ditemi voi intanto amichevoli. La prima finisce 2-2 contro la Norvegia. Per noi segnano Zinkernagel e Polsen. Finalmente arriva anche questa bella notizia e quindi Ure come Slimane e Mensah torna con questo messaggio. Questo significa che però ancora due settimane di recupero almeno deve farle. E questo è il risultato della seconda amichevole invece. 1-0 contro la Grecia. Gol di Dolberg. Si è fatto male Hoiberg. Speriamo che non sia nulla di grave anche perché poi il mese prossimo avremo altre amichevoli. Adesso però rimettiamo la testa sul campionato. Eccolo il messaggio di Slimane. Spero non sia l'unico perché ne vedo due. Abbiamo un sogno nel cuore. Ragazzi tornate e riportate il Brond V campionato. Che tristezza. Ma comunque Slimane che ci dice mi sono completamente ristabilito. Oh ci vediamo in campo. Però pensavo ok è bella che suona la carica. In Mensah stessa cosa. Ci vediamo in campo. Bene, 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 bene. Questo non significa che giocheranno titolari entrambi. Però adesso capiamo. È chiaro che sono due valori aggiunti. È chiaro che stiamo aspettando Ure. È chiaro che c'è il Vaile. E quindi dobbiamo andare a far male alla nostra avversaria di oggi. Per continuare a seguire il treno delle tre sorelle praticamente della Danimarca. Mitillan, Copenhagen e Brondi. E rieccoci al Brondi Stadium. Piove dentro la nostra casa. E sono lacrime di pioggia mi verrebbe da dire. Perché bisogna chiedere scusa in ginocchio ai nostri tifosi che hanno visto brutte partite qui ultimamente. E allora bisogna ripartire da oggi. Da una gara sulla carta abbordabile. Ma sul campo poi cambia tutto. E quindi trasformiamola noi in gara abbordabile. Edlund prova ad accendere il motorino. Dentro soltanto Felix. Sul secondo palo anche Mabil. Edlund guarda entrambi. Riesce a crossare. Secondo palo. Eccolo qui. Il colpo di testa di Averma Bill che torna a segnare. Fa 1-0 e fa esplodere il Brondi Stadium. Finalmente si torna in vantaggio a casa nostra. Allunga sulla corsia il numero 19. Tocco dietro. Poi sale anche Esatolai che prova a piazzare. E segna un gol straordinario. Pareggio del Vaile al primo tiro in porta. Si prende un caffè. Il numero 6. Però è un peccato. Stavamo giocando benissimo. E poi succede questo. Ed è un po' demotivante. Poi bene C&B. Ottimo break. Allora Mabil. Felix. Vicino arriva Edlund. Il tocco è per lui. Occhio a Edlund. Col piede Brunst. Ancora Edlund. Dentro. James allontanato. Si gira e serve Wigen. Dentro Felix. Si apre Mabil. La porta a Fena. Che attende i compagni. Sta arrivando dentro Wigen. Visto. Servito in area. Wigen! Ancora avanti il Brondi. Con l'asse Wigen. Che segna al tramonto del primo tempo. E poi va ad esultare. Dentro la curva. Movimento davanti alle panchine. Perché dopo tre mesi tornano in campo. Con la maglia numero 25. Anis Slimane. E con la maglia numero 14. Kevin Mensah. 10 al novantesimo. Occhio al lancio. Alle spalle dei difensori. Liberare Adnan. Colpetto in area. Adnan. Dentro. Djordjevic sul destro. Lascia il pallone ad Anson. Mirante Anson. 2 a 2. Che dormita difensiva. 2 a 2. Invece adesso c'è campo per Muko Lee. Che va sulla corsia. 5 al novantesimo. Corre Muko Lee. Salta a Cembe. Tocco dentro. Maxo c'è. Forza ragazzi. Schiederup. Felix. Parte anche Mabil. Servizio per lui. Resta giù la bandierina. Corre in area Mabil. 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 Fa solo doppiette quando segna. Ma fa gol pesantissimi. 3 a 2. 3 a 2. E' venuto giù il Brondi Stadion. Non abbiamo una psicologia. Non abbiamo un senso. Non accusiamo il colpo. Lo rifacciamo subito. Siamo dei pazzi. Ma ci amate per questo. 3 a 2. Attacca ancora il Lavaile. C'è campo per Adnan. Chiuso. Da Cembe. Intanto il microfono è andato a donne di facili costumi. E quindi vi ho rotto un timpano. Ma sta ripartendo il Brondi. Per chiuderla siamo già oltre i due di recupero. Maslimane si fa tutto il campo. Guarda anche la porta. E calcia. Poi c'è ancora Mabil. In area. Destro a giro. Poi Felix. Brunst. E giallo per Slimane. Ma chi se ne frega. Fischia la fine. Angolo di Edlund dentro. Palla allontanata. La buttiamo via. Perché l'importante è che finisce qui. 3 a 2. Per il Brondi. Seconda vittoria consecutiva. Forse. No. Non per la prima volta in stagione. Ora in realtà non ricordo a memoria. Ma l'importante è che sia arrivata questa seconda vittoria consecutiva. Perché non è successo spesso in questa stagione. La parola continuità ci appartiene ancora poco. Però. Bene così. Bene così. Era fondamentale fare risultato. E io credo sia stato fondamentale farlo soprattutto dopo aver accusato il potenziale contro il colpo psicologico del 2 a 2 all'ottantaduesimo. Cioè lì ti ammazzano. Ti uccidono. L'hanno fatto spesso in questa stagione. Però è anche vero che noi abbiamo reagito spesso in questa stagione. Perché se pensate alla seconda giornata contro il Viborg. Noi pareggiamo la partita. Ci rifanno il 2 a 1. E rifacciamo subito il 2 a 2. C'è una caratteristica che il Brondi ha. Spesso non è bastata per vincerle poi le partite. Perché magari appunto in quel caso. 2 a 1 2 a 2. Non c'è stato lo step successivo. Oggi fortunatamente andava fatto un solo gol per vincerla. Bene così. E testa i Rangers. Non potevamo arrivare meglio alla sfida contro i Rangers. Anche se da un punto di vista di classifica no. Intendevo da un punto di vista psicologico. Perché poi mi fraintendete quando parlo. Non va bene. Però sono curioso di una cosa. Adesso fatemela un attimo. Cioè vediamo la classifica. Che non è cambiata. Per niente. Se non per il fatto che se non sbaglio abbiamo staccato l'Alborg o l'Arus. Perché eravamo a pari punti con la quarta. Quindi Middelland ha più 11 su di noi. Copenhagen ha più 4. La prossima però è contro il Copenhagen. C'è il derby di ritorno. E poi la stagione è ancora lunga. Ci saranno anche i playoff. Bisogna sognare. Bisogna sognare o quantomeno essere lì. Perché poi puoi non vincere. Torno a ripetere. La prima stagione. Però non puoi neanche fare una stagione fallimentare. Noi ci stiamo comunque divertendo. E possiamo soltanto crescere. Anche perché sono rientrati quei due. Secondo tempo spaziale. Soprattutto di Slimane. Mensal ho visto ancora un po' fuori dagli schemi. Se torna Ure. Ci divertiamo. E questa maglia. Lo testimoni. Eccole. Brombi e Rangers. Che scendono in campo per la terza giornata del girone di Europa League. Per noi è una sorta di ultimo treno. E peraltro la differenza rispetto alle prime due giornate. È come ci arriviamo. Perché con lo Spartapraga arrivavamo da una sconfitta. Contro il Lione anche. Da un momento molto complicato. E da una sconfitta. Tra l'altro oggi invece siamo reduci da due vittorie consecutive. E come dicevo siamo giunti all'ultimo treno. Perché non dico che sia obbligatorio vincere. Ma è obbligatorio muovere la classifica. Non fare punti oggi. Vorrebbe dire perdere forse anche la possibilità di arrivare terzi. E dunque raggiungere quello che poi è il nostro obiettivo reale. Il terzo posto è la Conference. Il secondo. È un sogno. Ma chiaramente viviamo e vediamo. Intanto godiamo Cilinno. E poi è Brombi Rangers. La concentrazione dipinta sul volto di Mr. Marconi. Le strette di mano. Gli abbracci tra i protagonisti delle match. Due squadre che conosciamo bene. Che abbiamo raccontato entrambe. I Rangers li sto raccontando quest'anno. Per OneFootball. Peraltro due squadre che nella realtà hanno dato spettacolo. Qui finì 1-1. E il Brombi perse. Un'occasione però in quel caso. Ma era la quarta giornata. Già la parte di ritorno del gruppo di Europa League. All'andata vincere i Rangers per 2-0. Questa è la formazione dei danesi. 4-2-3-1 con i due in panchina riconfermati. Slimane e Mensa che partono da fuori. Per entrare piano piano potremo anche reinserirli nell'undici titolare. Come vi raccontavo. Ma adesso è giusto non toccare una formazione che sta funzionando molto nelle ultime settimane. Questo invece è il club di Van Bronkhorst. Con il tridente pesantissimo. Morelos, Aji, Kent. Aji che tra l'altro nella realtà ha segnato la Brombi. Oltre ad essere un ex-genk e Fiorentina. Poi occhio anche a Aribo a centrocampo con Davis e Camara. Barisic e Tavernier sulle corsie spingeranno tantissimo. E questo signore, il bufalo di Medellin sicuramente, potrà darci filo da torcere. È pronto lui. Sul pallone è cominciata. Brombi contro Rangers. James Tavernier. Sterzata e tocco su Aji. Aribo. Le finte del nigeriano. Poi Morelos vuole girarsi al limite. Occhio a Morelos che calcia su Maxo. Bravo a contenere. Poi insistono i Rangers. C'è Aribo che vuole sfondare centralmente. Disturbato e chiuso. Ripartenza Brombi. Bene con ordine e con velocità perché c'è Mabil. Non servito bene. Allora altro 1-2 chiesto a Felix. Che però vince un rimpallo con la mano. Kent. Occhio che è solissimo. Aji scoperto i Brombi. Aji col tocco morbido. 1-0 per i Rangers. Grandissimo gol di Yannis Aji. Difesa messa molto male in questo caso con Bungard che era rimasto alto. Però come partenza del match molto simile a quella contro il Lione. Quindi loro che alzano il ritmo e quando alzano il ritmo noi andiamo in difficoltà a questi livelli. Ora bisogna reagire. Siamo partiti un po' emozionati. Ora possiamo reagire perché comunque da un punto di vista tecnico sono superiori a noi ma inferiori a Lione. Vuole portarsi a spasso Aji. Poi va a premiare il movimento di Frendrup che si accentra. Si apre lo spazio per Frendrup che guarda McLovelin. Calcia! Risponde McLovelin. Come contro il Lione. Anzi no contro lo Spartapraga. Morten Frendrup prova a suonarla la carica in casa Brombi. Dentro Frendrup. Si muove Mabil. Premiato da un gran pallone di Morten in area. Mabil guarda in mezzo dove c'è Schielderup. Che deve soltanto appoggiarla. Fa 1-1 al tramonto del primo tempo. Il primo gol europeo del Brombi. Lo segna il predestinato. Che ci riporta sul livello del mare con un destro facile facile. Qui hanno dormito loro difensivamente. Ed è una delle prime azioni corali del reparto offensivo del Brombi in questa stagione. Questa la fotografia di un momento in cui la fiducia c'è e deve esserci anche la serenità. Lasciamo da parte l'emozione. E' un gol pesante perché arriva prima dell'intervallo. Insistono i Rangers che sono partiti meglio. Morelos dentro da Aji. Bungard ha chiuso. Poi Davis! Mamma mia se entra questo pallone. Palla sul fondo. Peraltro non so perché la fascia sia sul braccio di Davis e non di Tavernier. Bello che me ne accorgo soltanto a inizio secondo tempo. 1-1. E' una super partita ragazzi. Forse la più bella di questo inizio di stagione. Come intensità e come peso. Riapre. Frendrup. Che chiude. Quindi Bungard. Vuole Mabil. E lo trova. Adesso c'è un po' di campo offensivamente. Schielderup. Occhio all'inserimento di Wigan. Che palla di Schielderup! E che miracolo difensivo di Elander. Bakugna. Poi apertura in zona Tavernier. Dimenticato. Mette giù colpetto. Sfida Bungard. C'è Aji sul destro. Calcia. Mirante! Si abbassa Mabil per venire a prendere il pallone. Qui Tavernier rischia. Vuole finire prima la partita. E' già la seconda intrataccia che fa. E allora occhio che si apre però il campo per Mabil. Servito da Slimane. Corre Mabil. Guarda dentro. Dove c'è Felix! Addosso al portiere. Ancora Felix! Due volte McLaughlin! Due volte McLaughlin! Abbiamo avuto anche la palla per ribaltare la situazione. E adesso ripartono i Rangers. Con Kent. Basie. E Lander. Occhio che Basie non è entrato per difendere ma per attaccare. E allora dentro da Morelos in area. Occhio al Buffalo che si gira. Lascia lì. Bakugna. Morelos! Non sbaglia. Ed è anche un gol meritato. Quello del Buffalo. Perché hanno creato molto più di noi. A inizio secondo tempo. Abbiamo avuto una palla goal clamorosa con Felix. Come contro il Leone. Abbiamo le occasioni e non le concretizziamo. Comunque buon Brondi fino alla fine. Edlund guarda a destra. Bruce riesce a servirlo. Dentro c'è spazio per il cross. Che arriva verso Slimane. Ha chiuso Jack. Poi vuole insistere Edlund. Dentro ancora. Greve! Due a due! No! Tutto fermo. Tutto fermo. È fuori gioco del numero 8 che sta ancora esultando. Adesso si accorge della bandierina. L'avevamo fatto ancora. A 7 dal novantesimo. Mamma mia. E qui sì fuori gioco netto. Che vuole andare. Rincorso pure da Camarà. Ha ancora energie per riaccendere il motorino. Lo rincorre Basic e fresco ma non gli sta dietro. E allora va Edlund. Che cerca lo spazio per il cross. Prende il fondo. Sempre Edlund. Riesce a crossare sul secondo pallo. Lungo per Mabille che però la tiene. Colpetto. Cerca spazio. Ancora Mabille. Altro cross. Dentro. Fenix! Sul fondo. Con orgoglio il Brondi. Con orgoglio. Indipendentemente da come finirà questa partita. Perché poi c'è un ritorno tra dieci giorni ad Ibrox. Ed è vero che è in casa loro. Ma l'avversario è lo stesso. Abbiamo rischiato di vincerla. Abbiamo rischiato di vincerla. Un pareggio sarebbe stato oro. Viste le prime due. Invece ci ritroviamo ancora una volta con zero punti. In questo momento almeno in Europa con noi il calcio è veramente crudele. Però dobbiamo accettarlo. E dobbiamo andare avanti. Perché torno a ripetere. Prima o poi ci tornerà indietro quello che stiamo seminando. E noi stiamo seminando sicuramente il fatto che siamo scarsi. Ma stiamo dando tutto. E qualcosa prima o poi succederà. Quindi mi aspetto già una gara diversa al ritorno. E adesso voltare pagina è semplicemente obbligatorio. Perché c'è il derby. Contro il Copenhagen che in questo momento ci è a più quattro. E dobbiamo arrivare al derby con tutte le forze. Ma soprattutto, soprattutto con un ritorno clamoroso. Perché Micaelure si è fatto male esattamente nella partita prima del derby d'andata. E rientra esattamente in tempo per il derby di ritorno. Ma adesso c'è anche lui. Adesso c'è anche Micaelure. Quando provi ad andare oltre i tuoi limiti, è inevitabile che a volte ti scontri con qualcosa più grande di te. E quindi ti derivano ferite, delusioni, momenti da cui ripartire. Tipo quello che è successo alla Brondi quest'anno che sta succedendo continuamente in Europa. Oggi c'è il derby. E per la prima volta, dopo più di tre mesi di infortunio, tornano quei tre che sono mancati. Grazie a tutti.